Sì, grazie signor Presidente, grazie alla signora Commissario, ma consentitemi un grazie particolare al relatore Castiglione per l'ottimo, intenso e proficuo lavoro svolto. La necessità di vincere le sfide della competizione internazionale con programmi di riconversione qualitativa e di tutela della tipicità sono obiettivi fondamentali che devono essere tutelati dalla riforma del regime europeo del vino. Tuttavia è importante assicurare il mantenimento dell'aiuto ai mosti di uve concentrate e ai mosti di uve concentrati rettificati prodotti dalla comunità europea poiché si tratta di una pratica enologica comune in molte regioni comunitarie. Per quanto riguarda lo zuccheraggio, ai fini di una maggiore trasparenza ed informazione del consumatore, si deve prevedere che l'eventuale uso di saccarosio per l'arricchimento sia indicato in etichetta. I programmi di aiuto nazionali devono essere utilizzati per finalizzare le misure di promozione all'interno dell'Unione Europea, la prevenzione della crisi, la ricerca, lo sviluppo e soprattutto il miglioramento della qualità del vino. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli impianti, la proroga sino al 2013 potrebbe essere accettata per i vini protetti da denominazione d'origine e da indicazioni geografiche. Al fine di portare una situazione di equilibrio per gli altri vini, la liberalizzazione di impianti deve essere solo in seguito al programma di valutazione di impatto della Commissione da realizzare entro la fine del 2012.